bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi siamo su super battle tactics dovrebbe essere il nostro nuovo concorrente bene scelto da rammatiziale io ho scelto questo ragazzi questi due qua non mi fido io scelgo questo l'hercules se no ragazzi dovete scegliere o il dottor smash o il red tiger ragazzi ma io prendo hercules io ragazzi è chiaro sto gioco l'ho già giocato ma non è che mi sia piaciuto tanto ragazzi ho fatto che uno assenza del gameplay non c'è un gameplay sto gioco bensì ragazzi non dovrete fare altro che fare battaglia online contro altri carri e vincere come rendi per costruire altre carri mo andiamo avanti sbligati le linee di fuori si aspettano ebbè ragazzi inizio ci vogliono combattere una battaglia mo ecco ma non so panse vabbè se ne eraviamo bla 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 si ho già capito ragazzo già come si combatte qua qual è il nostro avversario allora questo qua prima di vedere le regole ogni cara la parazione non c'è così per fare l'attacco e si lo so e se ne tu non il caro non c'è un valore casuale lo so ti ho testo già abita rilancia per modificare l'azione di un carro vediamo ora vabbè io rilancio ragazzi occhio eh perché poter usare una sola volta ragazzi dopodiché no vediamo vai lo sfondo molto meglio combatti tocca combatti iniziare l'offensiva vabbè questo ragazzi è un veicolo scudo ragazzi occhio che dopo ragazzi c'è questo quadratino qua ragazzi blu vedrete dopo ragazzi cos'è ma ragazzi non posso dirvelo perché questo lo so ecco occhio ecco ciò vuol dire ragazzi che questo ha il primo fuoco quando compare quel rettangolino blu vuol dire che questo qua attacca per primo ma se il vostro primo fuoco è maggiore di quello là potete attaccare voi per primo è che fine vediamo la seconda unità e si certo quale sto vi sto vi come la ricorda ragazzi fa c'ha il fuoco rapido c'è il primo fuoco lo so si ti ma più alto in primo fuoco attaccherà per primo se no se volete posso lanciare ottenere primo fuoco allora li lancio sto qua e voilà ecco è il più alto potete tolgo il primo fuoco questo iniva tutte le attaccheranno per prime ciao ragazzi quando una vostra unità il primo fuoco non mi era dimenticato le vostre unità attaccheranno per prima se no c'è il primo fuoco dipenderà ragazzi dal valore che uscirà in attacco per chi attaccherà a primo ma ragazzi cominciamo a combattere ecco se avete visto ragazzi ci sono quelle due componenti ecco ma questi c'erano un terzo carro verso veicolo allora allora io ragazzi per se mentre non mangi il carro c'era un nemico casuale da attaccare questo ragazzi occhio che è un'abilità decente l'abilità personalmente mi mette di utilizzare attacco con un caso un nemico speciale vabbè questo lo so e chi devo bersagliare qua no ragazzi devo bersagliare per forza questo col primo fuoco ragazzi vabbè lo so gli otto ragazzi per rilanciare qua vediamo primo fuoco e dagli e rilanciamo anche su questo qui dai 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 no vabbè che schifo e ragazzi devo combatteremo per forza e dagli e ecco voilà altri componenti trovate dopo ragazzi vi trovate componenti a cos'è ma non posso ma che schifo ragazzi devo dire una cosa attacco questo ragazzi perché questo qua ragazzi subito allora rilancio a questo qui dai primo fuoco e vabbè che schifo dai primo fuoco no e vabbè che cazzo potrò attaccare per primo ragazzi ma con poco danno cioè qua neanche lo sfondo ma sto cazzo di carro visto ragazzi che vi dicevo ecco porca puttana allora dai 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 e che cazzo però raga sempre sto non mi capita mai il primo fuoco e dai e e dai 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 e ma vaffanculo però che cazzo fatemi capitare il primo fuoco vediamo ma stagliare questo dai ma porca puttana raga non è possibile che so qua sto veicolo con la protezione e qua sto veicolo riconditore con la con la con lo scudato ragazzi che regge gli attacchi non mi dà il primo fuoco ma sto mondo ragazzi comincio a fare il bersagamento perché sti cazzi vabbè tanto ragazzi ho vinto io ecco se non andiamo in occhiata un'ultima abilità e quale sarebbe non manca ma non ricorda ragazzi quale abilità oh cazzo questo questa amica è abbastanza tosta ragazzi occhio con l'abilità chiedo più di un punto abilità ops ho sbagliato mi attacco di chiedo un punto di azione tocca una volta sugli esso per investire un mutabilità no spero tu stia scherzando eh eh ma quando mi attacco ragazzi li faremo poco questo nemico è di grado 4 ed è fortissimo sto carro mi pare raga ecco col cazzo ma questo raga se abbiamo culo ragazzi lo sfondiamo subito vediamo ragazzi abbiamo vinto sei un talento vai a vedere Franco per sviluppare la squadra Rattame è 250 250 soldi ordolazioni ripromossa la classe successiva vabbè sono la classe bronzo va locali disponibili volti freaker speedster l'abilità sbloccata bombardo infilizzo da 4-8 danni all'unità nemica fatto che forza noi li nonostriamo all'unità migliori per costruire un'unità collezionata a parti ecco ragazzi per questo vi dicevo io che i gommoni servono proprio acquisto per trovare parti suggerendo un'unità nemica migliore sull'unità migliore sarà la parte hai già collezionato quelle parti ho caso un'unità per costruirla si ma si ma io però vorrei costruire qualche carro armato decente perché sto qua mi ricordo che fa pure abbastanza schifo volta allora corto circuito rifliccio i danni impedisce di lancia questo ragazzi mi pare che buono come effetto spisciora vabbè ci vogliono proprio 5 secondi ci vuole proprio niente ecco ci vuole tenare più biglietti vabbè questa è un'ottima aggiunta per la tua squadra ebbè allora mie parti zero vabbè queste ragazzo tutte le parti che servono per costruire carri carri molto molto tosti allora come mettere le parti vabbè ragazzi avete visto insomma dovete giocare online allora questa che dice l'azienda e cosa la girassetto questo lo so oh cazzo non mi dite che si è si è cassato il gioco no raga non è possibile porca puttana non è possibile dai dai che palle oh rilancio il gioco ragazzi purtroppo qua sta società che cazzo mi si è cassato che cazzo si è bloccato il gioco ragazzi non è possibile dai quanti cavolo di soldi si è messo il gioco raga ma ma cerca chips di fusione e non ho nuovi carri e nuovi tia sbloccati gioca e devo giocare per forza purtroppo allora ci avete abbastanza soldi ragazzi per aggiornarvi un'unità grazie a tutti grazie a tutti vabbè ho speso i miei soldi ragazzi dovevo puffarlo allora una partita ragazzi spreca un biglietto quindi ragazzi non fatevi problemi se volete combattere allora vediamo un po' ma ma porca ma porca Che mi fa schifo Non è che il match make fa schifo ragazzi mi ero confuso Cioè dico Prima gli avversari si trovavano bene in sto gioco Ora non si trovano più Ma dai Dico Dico Sto gioco era meglio prima Bobbo Sta diventando una vera schifezza Tocca vabbè Cosa Ma vabbè ma ce la fai Sì ma che cazzo ragazzi non è possibile Cioè vedete pure voi L'avversario neanche li trova No dico ma sto gioco cosa cavolo gli è successo Sta guadagnando pochi soldi per caso No perché sei così ragazzo Dai amico Dai ragazzi Esordienti rumorosi Wow Allora vediamo un po' Allora Rilancio qui Via Rilanciamo anche qui ragazzi primo fuoco Dai 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 Vabbè vaffanculo però che cazzo Che palle oh dai Rilancio di nuovo ragazzi Dai 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 Eh ma che cavolo Pagliacciata Si vabbè Pagliacciata sta minchia Oh cazzo Porca puttana Allora 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 lanciamo Qui dai primo fuoco primo fuoco Eh ma vaffanculo però lo fate voi apposta Aspetta Ma vabbè ragazzi Ma vabbè ragazzi Abbandoniamo Lo perdiamo Dai 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 Si ma Ancora Il caro si ferma ma la barra gira Si certo sta minchia La barra gira sto cazzo Ecco Ecco Allora Contrattacchiamo noi Allora ragazzi possiamo farcela Possiamo farcela Si ma Non possiamo farcela però se Non mi date un primo fuoco eh Scusate Oh Rilancio qui ragazzi Dai undici undici Vabbè ragazzi abbiamo vinto Disse deve essere sezione per la paga No dico sei matto tu Vabbè vinco io Ma vaffanculo Ecco Complimenti Ma vai affari in culo Brutto testa di cazzo Ecco Voilà Brutto figlio di puttana Spero che Spero che Spero che Ecco qua Rilanciamo qui Olè Ma facciamo il bersaglamento per Allora di sedici Vabbè buttiamo giù questo qui ragazzo Che tanto lo so già che Ecco Dai dai A me Va vai affari in culo va Vabbè Uno Allora ragazzi La facciamo a vincere la fortuna Ragazzi qua eh Che palle però Dannazione ragazzi Comunque ragazzi Non volevo insultare sto tizio ragazzi Ma la dico Tu non potrai mai farcela Conto di me Bersaliamolo pure Voilà Ecco E ci siamo presi i soldi ragazzi Vediamo quanti soldini 385 soldi Congraduazioni In quanto Il mio domenico è il campionato Eh ragazzi Man mano che fate battaglia Salite di Campionato Si dimostra la lega a bronzo Ragazzi Non è che il tuo posto alto Beh ragazzi Con questo è tutto Se volete altri video Sto gioco ragazzi Scrivetelo nei commenti Beh Commentate Condividete il video Se volete raga Potete pure dimmi Magari Qualche Quale altro gioco Vorresti sul canale Detto questo ragazzi È tutta Bella Bella